Buongiorno e benvenuti, oggi è il 3 aprile, io sono Serena e questa è una nuova puntata di Smurty Pants qua su Teleblog. Questa sera andrà in onda il secondo scontro televisivo fra Romano Prodi e Silvio Berlusconi, moderato da Bruno Vespa. Il nostro candidato ha deciso di rilasciare un'intervista con un contraddittorio in pieno rispetto della par condicio. Vediamo le immagini. Signor Presidente Felice Lafica, dove pensa di trovare i soldi per finanziare gli incentivi alla copulazione e all'amore libero, visto il buco di bilancio che di sicuro lascerà il governo alle precedente? Ma guardi, il buco c'è, però come ci insegna l'economia italiana basta stampare un po' di sotto, mettiamo un po' di lire in giro e sicuramente non ci sarà nessun problema. Queste lire ci permetteranno inevitabilmente di pagare dei corsi per tutti gli italiani. Io sinceramente non mi sento di vedere questo come un rischio, guardi. Ma siamo entrati nell'euro da 4 anni? Beh, ma noi mettiamo lire nel mercato e facciamo una sorta di mercato alternativo, di moneta alternativa nella quale facciamo valere per quel periodo, almeno all'inizio, un po' le lire. Tanto, vabbè, non lo faccio, lascio passare, chiediamo per favore. Insomma, la verdura, per esempio, la vendiamo in lire. Mi sembra una cosa più che giusta. Di conseguenza, con queste lire in più, permettiamo alla gente di pagare questi corsi. Sarà un circolo virtuale, più o meno alla gente che verrà a insegnare queste cose per la copulazione, questi corsi per la copulazione, daremo lire che varranno per quell'anno, insomma, saranno una sorta di baratto con moneta finta, diciamo. Parliamo di lire vecchie, se non erano ancora distrute, qualcuna cercherà di dire. Un monopoli dell'amore. E' l'atto. Signor onorevole, la figa felice. Il suo programma, come il suo nome e il suo stesso simbolo, sembrano tutti essere speculari a quelli del suo avversario. Non teme di essere ricordato come il candidato palindromo? Sinceramente no, perché io trovo che il mio programma arrivi a conclusioni simili in maniera ben diversa, comunque a livello di ideali. Ancora qualche secondo a disposizione del suo tempo? Non vuole aggiungere qualcosa? Felice e la figa mi sembrava una persona abbastanza incompetente che comunque di politica non si intende molto. Ricordiamo che McEwan aveva detto frasi molto chiare in merito al tema della sessualità. Insieme a Freud avevamo fatto grandi confronti tra sessualità e capitalismo. Lo spumante a capodanno per tutti, non ti sembra la solita misura una tantum che poi non è una reale influenza sull'economia del paese? Allora, chiamarla una tantum sembra sbagliato perché semmai è una multa ogni tantum. Quindi qualcosa che comunque si ripete, una tantum è una cosa che succede una volta. Sicuramente no, perché io confido in questo fatto che noi mettiamo di 3 euro o 4 all'anno questa tariffa, mettiamo questo spumante. Basta un niente per rendere felici gli italiani, secondo me. È la dimostrazione che il governo sta pensando a loro. Una bottiglia di spumante, ragazzi, una bottiglia di spumante, una cosa con una bella bandiera, una bella faccia di FLF, ovvero Felice la Figa, e l'augurio per tutti gli italiani a passare un anno migliore. Il punto di forza del programma del suo avversario, Felice la Figa, sono l'incentivo alla copulazione che hanno escorso molto successo, soprattutto nel trato giovanile, è ancora in potenza. Ma come si pone in questa cosa? Per il DanCredit incentivi un metodo, un meccanismo economico per incentivare comunque i rapporti sessuali, insomma, la persona di ogni età? Ma guardi, questi programmi di copulazione mi convincono sicuramente, infatti anche io approvo questa idea, ma fino a un certo punto io presumo che più che corsi di copulazione si dovrebbe agire sul campo, quindi io penso di girare porta a porta quasi per le strade e per le porte, come ho chiamato questa porta a porta, spiegando personalmente alla gente come copulare sia bello, magari anche con dimostrazioni pratiche. Questo comunque alleggerirebbe sicuramente la spesa economica che porta a questo e raggiungeremo comunque allo stesso scopo. Un impegno quindi fin d'ora agli italiani, nei primi cento giorni, a portare il suo risultato. Un'ultima domanda. Non temi che le notti bianche ogni settimana possano essere infiltrate dalla criminalità e utilizzate come copertura degli affari loschi della criminalità organizzata straniera? Ok. Un'ultima domanda. Ne preferisci lo spumante o lo champagne? Questa è una domanda difficile. Allora, guardi, la racconta un piccolo evento. Aveva una ragazza francese, per la precisione di herna vita, emigrata in Francia. Ero stato da lei cinque o sei giorni. Avevo bevuto continuamente spumante al posto dell'acqua, visto che lei abitava nella champagne. Devo dire che comunque lo champagne era una cosa che un po' che faceva bene, non sono mai stato male, mi sono sempre trovato bene. Vivevo in uno stato di, diciamo, catatronico continuamente. Vedevo il cielo, vedevo tutto felice. Dopotutto però lo spumante è un prodotto italiano e il far girare l'economia comprando spumante potrebbe comunque aiutare, senza aumentare appunto la monetizzazione e la produzione di moneta, a finanziare comunque i corsi di copulazione. Quindi preferisco lo spumante a livello di economia, diciamo, anche se lo champagne comunque non so perché. E come si pone invece nei confronti del Moscato? Ma guardi, il Moscato è un vino dolce, è un vino che riflette proprio l'animo della madre italiana, sempre innamorata del figlio, che vorrebbe sempre il figlio vicino a lui. Quindi potrei dire, diceva lei, potrei dire un vino stilnovista, parlando della poesia tracentesca. La vispa deve sapere che è pericosa. Bene, ora iniziamo il conto alla rovescia per le lezioni. E comunque vada, vinca la figa. Noi ci vediamo domani, ore 11, stesso studio, stesso teleblog. Se non a telepromozione, comprate questo è il maggiordomo a soli, cari amici, teles, spettatori sporchi, ostinati, spruzzare, applicare il prodotto direttamente sui supporti da trattare, risciacquare accuratamente. Attenzione, qui. Eh, no, ma qui cambio. Però, dove ho saputo dire? Guardi, un appello a Silvio Berlusconi. Io ho la residenza ancora in Sardegna. Mi segue, signor Ministro. Come lo chiamano, Ministro, dottore? Chiamalo ancora Presidente per poco. Silvio, così, Silvio. Sì. Silvio, bravi. Sì. Silvio, amico mio e degli altri. Io ho la residenza in Sardegna. E per votarti dovrei prendere una nave, quindi un costo di circa 100 euro per raggiungere la Sardegna, e votarti. Quindi a me chi mi ripara di questo, se tu vuoi che ti voti, io vado contro tutti i miei ideali politici, mi dai qualcosa di meno, circa 2, 3, 4 mila euro, posso anche votarti. Guarda che il viaggio è rimborsato. No, ti rimborsano un 60%. E quel 40% io per lui non ce lo spreco. Pronti? No, lenta, spesso. Lunedì? In serie, si parla di... Lunedì 3 aprile. Sembrava l'amleto, sembrava. Ma cosa c'è? Io ho capito perché questo è il problema. Perché? Perché se parliamo di Prolidi e Berlusconi bisogna pulire la società da questi due elementi di... 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 Brava! Brava! Sì, di... Brava! Andiamo! E arriva la querera, andiamo! Più impostata, più... Eccolo, mostriamo un po'... Che cosa? Che posso attivare il giro? Che tutto è imbottito. Oh, e vabbè, anche se tutto è imbottito non so. Il nostro candidato non è stato invitato e ha deciso di rilasciare un'intervista con un... Co... Co... Ah! Coco Pro. Perfetto!